Noi siamo sportivi, ma non siamo come il dendificio, perdete come l'Inter Ehi che c'è il dosso, vai! Per voi non siete nessuno Si sono gli sciungoli Oggi, dopo aver messo nei giorni scorsi a dura prova l'amore e la fedeltà dei tifosi napoletani e interisti nei confronti della propria squadra del cuore Siamo tornati perché è il turno di un'altra tifoseria Quella rossonera, quella del Milan Secondo voi, i milanisti sarebbero disposti ad indossare la maglia dell'Inter per soli 100 euro? Ebbene sì, siamo tornati a Milano e come potete vedere alle mie spalle abbiamo la scala del calcio, San Siro Siamo gli sgoccioli dell'Euroderby, Milan contro Inter In occasione della semifinale di Champions League valida per l'accesso alla finalissima Quindi sarà una partita che comunque vada, qualunque sia risultato verrà indubbiamente ricordata nei prossimi anni Potete dirvi che è una partita sentitissima non solo per la posta in palio Anche e soprattutto vista la rivalità che ci sono tra queste due squadre, tra le squadre di Milano Inoltre questa è una piccola chicca, guardate cosa c'è scritto dietro alla maglia dell'Inter Ma la vera domanda è quale sarà effettivamente la tifoseria più fedele? Non ne ho la benché minima idea, ma adesso lo andremo a scoprire in questo video Siamo, siamo qui con Omar, grandissimo tifoso del Milan Come potete vedere, allora Omar siamo alla vicilia dell'Euroderby Hai dormito stanotte? Intanto ti faccio questa domanda Non hai dormito? Mi sogno Teso, adrenalina Figa Piccolo pronostico? 1-0 Milan 1-0 Milan? Anche se non gioca Rafa? Senza Rafa, 1-0 Milan Nonostante l'assenza di Rafa ci sta, positivo Vuoi lanciare un messaggio ai tifosi nero-azzurri che magari guarderanno questo video? Vuoi dire qualcosa o vuoi evitare? Ci vediamo a Istanbul Ora ti lanci così sparato Allora Omar, adesso devo farti una domanda un po' cattivella Tiro fuori una maglia Che sono dei tuoi rivali questa sera Questa maglia qua, saresti disposta ad indossarla? Ti tiro fuori 50 euro? No, no, ma neanche neanche parlare Guarda, guarda, spieghe Quando loro vedono i soldi cambiano idea, guarda qua Omar Devi andare in tripla cifra minimo Tripla cifra? Un millino? Forse, forse Quindi tu saresti disposto, tra virgolette, per un millino a indossare questa maglia? Potremmo già parlarmi Ma un bacino neanche lo scudetto, è vero? Un bacino, un bacino, ci dobbiamo parlare di 4-5-0 minimo Grande, grazie mille Ci siamo, allora, siamo in compagnia di Andrea Andrea e Sofia Sofia, padre e figlia? Padre e figlia Quindi è nata milanista, perfetto Sei la terza ma è a Barcellona sempre a milanista Tutti milanisti Tutti milanisti Se fosse stata interista Un'altra domanda? Abbiamo l'aiuto del pubblico Abbiamo l'aiuto del pubblico Come avete vissuto la nottata? Ma lei è agitata Agitata Io ho un po' Tra altri motivi un po' così Così, così Piccolo pronostico Come ve la sentite la parte di stasera? Prima che pioveva ero abbastanza fiducioso Perché l'ultima volta mi sembra che pioveva Il milan ha vinto 3-0 in semifinale Ok Penso 2-0 per il milan Fiducioso comunque Per me vincono perché c'è il mio marito E' il suo marito E' Leao Ah Leao Ma gioca stasera a Leao? Ah non si sa Non si sa Scusate l'innamorata pazza di te stasera Se fai gol dedichilo Vi faccio vedere una cosa adesso Ok Pronti? Aspetta Mi tiro fuori da dietro Una maglia Ma nooo No no Vicky No no Questo qua è un nome A caso Dell'Inter Bellissimo Tra l'altro ho visto che c'è la scritta ultra dietro a Ma no Guarda l'ho popata dentro Non c'entro niente con gli ultra Vi faccio una domanda Sareste disposti a baciarlo scudetto dell'Inter? No No scudetto no Indossarla un attimo si Sereo? Indossiamo il volo? Ahahahah No perché tu devi sapere Io avevo con due colleghi Sono tutti interisti Ok E se mi vedono Non vanno a casa Anche la mia amica è interista E quindi cosa devo fare? Dovrei indossarla e poi? Se vuoi indossarla e lanciare un messaggio ai tifosi dell'Inter Vedi te è una tua scelta Lo fa davvero Non ci credo Non ci credo Non lo so rimasto È stretta Piccolina E non è che ho il fisicone Primo Secondo Mi vedete anche se non mi conoscete Prima e ultima volta che ne ha metto Però stai bene Guarda Mi eri simpatico fino a due minuti fa Stiamo qua con Jessica Marco Marco Daniel E il bomber Daniel Una famiglia immagino tutta rosso nera Come potete vedere anche dalla bianco Sì sì di rosso nero Siete di Milano siete in trasferta? Trasferta Trississima Da dove venite? Lecce Ma avete fatto un viaggione allora Daniel Sera Semifinale di Champions contro l'Inter Un piccolo pronostico Come pensi che possa finire? Dove Il Milan Ah fiducioso Che segna? Leao Quindi dice che gioca Leao C'è fiducia comunque mi piace Io pure 2 a 0 0 a 0 0 a 0 mi piace? 1 a 0 Quindi comunque diciamo che 3 su 4 Pensano che possa sbancare il Milan questa sera Nonostante quella che potrebbe essere l'assenza di Leao L'assenza di Leao Speriamo che gioca Ora vi faccio una domanda un po' scomoda Sentitevi liberi Volete lanciare un piccolo messaggio ai tifosi dell'Inter? I finali non sono per loro Istanbul Diciamo che Noi ce l'abbiamo nel sangue Ce l'avete nel sangue Il sangue Sì noi ce l'abbiamo nel sangue Allora adesso vi tiro fuori una cosa Una sorpresina Partiamo da te Tifosi dell'Inter magari davanti No no Non sono dell'Inter tranquillo Allora Daniel Ti faccio dire una maglia Nooo È la maglia dei tuoi rivali stasera Ti chiedo Sareste disposto ad indossarla? No mai no Cambio degli soldi? No no 50 euro No 100 E ve li tiro fuori e cambiate idea? Sicuri? Io no Assolutamente Guarda che ti starebbe bene Vuoi provarla? No Un bacino allo scudetto? No È proprio convinto della posizione sua Ragazzi Altro giro Altra corsa Siamo qui con Dalla Sicilia con Burore Gioacchino Giuseppe Milan che è patricendo Andorio Tutti i tifosi del Milan Certo Ok Allora vi chiedo intanto Come vedete questa partita Noi davano per battuti con il Napoli Davano battuti in ogni partita E noi siamo giunti in semifinale Pur non avendo una squadra di valore Come il City Come il Real Quindi come era nel 2003 Che io ero qua La Capa la porta bene Perché con l'Emboli abbiamo vinto nel 2003 Con l'Emboli abbiamo vinto nel 2007 Con l'Emboli abbiamo battuto anche il Napoli Prima del Napoli Speriamo che questa volta anche la Capa la porti anche fortuna Tifosi all'Inter Ma qua c'è un'intrusione di campo incredibile ragazzi No io devo lavorare No 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 dai No dai Noi siamo Guarda noi siamo sportivi Ma non siamo come il dentificio Per denti Come l'Inter È andato via È andato via È andato via Incazzatissimo proprio Tornando a noi 1-0 per noi 1-0 1-0 1-0 Ok Comunque c'è positività avete in casa Milano Ma Champions è casa nostra Quindi noi ci siamo abituati a certe partite Può succedere di tutto Anche se non c'è giocatore importante Sembra come è Leao Ma il calcio è fatto di 11 giocatori Siamo sempre 11 contro 11 Una storia narra così Negli antenati che Davide ha battuto il Goliath Che era un gigante Quindi automaticamente era lui piccolino Avendo l'astuzia ha battuto un grande bisogno E quindi bisogna avere l'astuzia E sapere giocare Come lo so fare il Milan Anche perché siamo la seconda squadra d'Europa Con otto coppie di campione Un qualcosa ci sarà E la prima squadra di Milano La prima squadra di Milano Ah non è l'Inter No no L'Inter è nata dopo È nata anche male Aspetta Ma è crescita anche peggio E poi è crescita peggio Vi chiedo Se volete lanciare un messaggio ai tifosi nerazzurri Tifosi nerazzurri ragazzi Io ero nel 2000 qua Nel 2003 E sono qua dopo 20 anni Io ero a Istanbul nel 3-0 Il 3-3 E' chiaro che Liverpool vince la coppa ogni morto di papa Ma in quell'anno è molto papa Hoitiva Poimè E automaticamente ho fatto una promessa Perché da quel stadio mi hanno uscito con la barella Dall'Atatürk Perché 3-0 Cioè ho la pelle d'oca Ho fatto una promessa E ho detto in quel stadio Mi piacerebbe tornare un giorno con il Milan A prendermi la rivincita Noi l'abbiamo presa col Boca Junior A Yokohama Io ero là Noi l'abbiamo presa con il Liverpool Quando ci ha battuto 3-0 3-3 Abbiamo vinto 2-1 Ci manca l'ultima pecca Andare a Istanbul e prenderci la coppa Quindi a Istanbul ci andrà il Milan Ci torniamo No 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 Sono fiducioso Vi faccio l'ultima domanda Anche se Perché loro c'erano già all'intervista precedente Quindi Questa maglia Mai Io questa maglia non la prenderai veramente mai Ma siccome quando tipo vado a San Ziro nel museo Ogni tanto mi viene ad andare in bagno Se me la dai vado in bagno Autolisco Quindi niente Un bacino La prova Vado in bagno perché loro sono Si dice anche la canzone Noi cantiamo Il colore della merda è nero Blu Fa tutto rinno Ho preso una coppia di un milanista E un interista Amici? Cugini Ah cugini Ah quindi stasera siete contro Allora Adesso allora mi baso più che altro sul cugino milanista Intanto ti chiedo un piccolo pronostico in merito Alla partita di stasera Come la vedi? Sensazione 4 a 1 Via 2 a 1 per il milan Io spero 2 a 1 per l'inter 2 a 1 per l'inter Ci sta Comanda proprio secca Vuoi lanciare un messaggio ai tifosi interisti? Anche tu cugino guarda Se vuoi guardare negli occhi Non voglio offendere a nessuno Ma interista Vaffanculo Come rispondono gli interisti? Vaffanculo Adesso io ti faccio vedere una maglia Ok? Che è quella dell'inter Ti resti disposta ad indossarla questa maglia? Mai Neanche in cambio di soldi Quindi se io adesso ti tiro fuori per dire 50 euro Però state intennando Sto intennando Se te li faccio vedere Guarda Sono qua Sono qua Sono milanista Non lo faccio Milanista doc Sicuro? Sicurissimo Un bacino? No un bacino manco Niente Allora stoppa un attimo Allora Per la trasmissione Riusciamo a fare una gag dove te la indossi? No davvero Al buono E mettoni subito Ti la senti? Sì sì Ma metto solo lì sopra Sì 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 Te la do io subito Ma proprio per la gag Adesso Poi adesso Tra poco riparte la registrazione No 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 faccio No faccio No faccio Ti ho influenzato Guarda Luigi Ti hanno salvato Perché stavamo registrando tutto E quindi eri proprio lì al limite Ti ho salvato Ti ho salvato Olè Eravano i chittaristi Let's go Forza Inter Pronostico? Secondo me 1-1 2-1 per l'Inter Per l'Inter In compagnia di? Gregorio Nino Antonio Antonio Venite da dove? Latiano In provincia di Brindisi Brindisi Puglia Ragazzi ma qua Qua si piatta proprio Tanto qual è la prima squadra di Milano? Perché mi dicono Inter Ok come vedete la partita di stasera Un pronostico se ve la sentite Se volete azzardarlo Un pronostico 1-0 Milan dai Ok volete lanciare un messaggio Magari a qualche tifoso nero-azzurro? Forza Milan sempre La squadra di Milano e il Milan Voi non siete nessuno Ah no no Non fare come i tifosi del Napoli Che poi dopo il calma ha colpito Istanbul chi ci vola? Eh vediamo dai Vediamo un attimino Difficile Milan real Allora vi sto per i tre Con l'ex allenatore Una sorpresina Non mi Perché già vedo che Sono un po' incazzati eh No mai Non mi fucinate Sempre peace and love Peace and love sempre Vi faccio vedere una maglina Nooo Non mette venite qua Vediamo che cosa c'è No no Mettila giù Mettila giù Mettila giù No no venite qua La devo metter giù Mettila giù E cosa ti fai se la metter giù Mettila giù Devo indossare Nooo Io te la metto giù Guarda Che succede? Io la copro in questo E pesce addosso Vai Sto degenerando È andata Però addosso Mi stare Sei un grande No 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 Grazie Io vengo in mezzo Vieni vieni Facete che capisci male Scusami C'è un vindo interista E un milanista Io vengo su Milanisti di qua Io vengo in mezzo di fianco a te Perfetto Stiamo in compagnia di Ronny Luca Rafael Giovanni Rafael Leao Ma in pochino Interista in mezzo di milanisti Com'è possibile Rafael Rafael Si chiamerà Allora Vi chiedo Sì sì Vi chiedo Un piccolo pronostico Per la partita di stasera Come la vedete 0-0 Vinciamo 3-0 0-0 0-2 0-2 Inter Ok Io mi accontento 2-0 2-0 Sono contento È un grande Giovanni Non siete amici voi? No Sono venuto che ho visto in inglese Da dove vieni? Vediamo su in inglese Calabria No Sicilia Catania Quest'anno Vi faccio vedere una maglia No eh Non è sua eh No 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 Il nome è La indossaresti? No neanche in su Dopo è morto Un bacio Sulla stemma Neanche è morto Gli facciamo baciare lo stemma dell'Inter No no Dai facciamo lo stemma dai No no Buttalo 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 Mentre Tirà Ficchè Vado No 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 Aspetta Tagliamaglio dietro Tagliamaglio dietro Tagliamaglio Ti hai fatto l'uguale Se mi fai Sardegna Che cazzo Un bacino Aio Un bacino che lo diamo No no ma No 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 a questa no No An questa Alla camera No Alla macchina No Sero proprio No Ho capito No 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 Grazie a tutti.